Il bollettino di allerta è messo da Arpa Pimonte e segnala il livello di allerta arancione nelle valli Sesia, Toce, Orco, Lanzo e Sangone e il livello di allerta gialla nei restanti settori, ad eccezione delle valli alpine e sud-occidentali. Vengono monitorati i livelli dei fiumi con particolare attenzione al Po, al Sesia, al Toce, all'Orco, al Pellice e del Lago Maggiore che sono attesi in ulteriore crescita nelle prossime ore. La sala operativa regionale e tutto il sistema di protezione civile attivato anche nella sua componente volontaristica continua a monitorare con continuità l'evolversi della situazione con apertura H24. Da questa mattina sono in tutto 128 i volontari, tra componenti del coordinamento regionale del corpo IB che presidiano i punti critici lungo i fiumi e i versanti. Grazie. Grazie. Grazie.